Ciao a tutti bentornati in un nuovo video e nuovo post di Elden Ring Grazie a tutti Grazie a tutti Oh amen Va l'inferno va Oh maledetto Ma che terba di anime Bene ragazzi è stata durissima Mi ha fatto scapotare malamente Perché era veramente un rompiscatole E questi attacchi dal cavolo Bene io vi saluto e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti